Benvenuti in questo nuovo video, torniamo a giocare a Whooply Life Ma quest'oggi siamo in compagnia di Marci e di Kendall E faremo delle cose veramente incredibili Ma prima di tutto, partita d'ok sul ghiaccio E vediamo un attimino chi vince Anche se Marci sta palesemente barando Vai via, scelti da lì Non credo che si possa fare questa cosa No, mi sono incastrato nel carto di Marci, vabbè Sto correndo in fascia Sto correndo in fascia Fermatelo Aspetta, ma la posso anche acchiappare? No, no, non la acchiappare, Steph Non vale, Steph Ma cosa stai facendo? Non vale Fermatelo, acchiappatelo Ragazzi che strategia incredibile Mamma mia È bellissimo perché scivoli un pochino E' una figata il ghiaccio Ma questo oggi facciamo qualcos'altro Praticamente il nostro obiettivo sarà arrivare in quest'isola misteriosa qui Vedete che a tutti i punti interrogativi non sappiamo cosa c'è Per farlo ovviamente abbiamo bisogno di guidare un elicottero E siamo vicini ad una base Che sembra tipo quella di Forte Zancuri GTA V Andiamo a vedere Quindi andiamo a vedere che cavolo c'è E guidare gli elicotteri non lo so Secondo me ci schiantiamo tutti e quattro Probabile Ma almeno facciamo il tentativo Io spero di non dover guidare niente raga Perché sono da schiantare Allora io spero di guidare per tutti e quattro Così moriamo tutti assieme almeno E' una morte di gruppo e più bella Sì sì è una morte felice Allora buongiorno Ma non diciamo che la polizia ci fermi se entriamo in quella base segreta Ma sembra che la polizia vada bene A quanto pare siamo ben accetti Sì 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 Ma non male La polizia è molto tranquilla in questo gioco Allora abbiamo gli airi singoli qua che sono bellissimi Ma non prendiamoli per adesso Poi abbiamo gli elicotteri lì in fondo Che sono incredibili Ma guarda anche le jeep negli hangar ragazzi Manca soltanto un carro armato ragazzi Ma Steph tu lo sai guidare Eh no Non ho mai provato a guidare un elicottero e un aereo Io non ci salgo allora Buona fortuna ragazzi È molto probabile Però aspettate un attimo Qua c'è un bunker segreto Eh sì Però c'è scritto coming soon Quindi penso che Però mi riesco a sbircere un pochino Che cosa sto facendo Guardatelo Guardate come è messo Secondo me se spingiamo tutti quanti Ce lo facciamo Ragazzi dai forza Vai Abriamo la porta Niente Ragazzi Questo portone gigantesco lo lasciamo qua Mi ricorda quello di The Forest Però ok Allora Quest'elicottero secondo me è da quattro posti Esatto Questo è grande Allora ragazzi Prima di salire Facciamo una preghierina Sì Sì C'è un po' Ce ne sarà bisogno Allora Salite Ragazzi Vi giuro che sta partendo da solo Oh mio dio Ci siamo Marci allacciati le cinture Allora E' da quattro posti Ci stiamo tutti Il problema è arrivare a destinazione Allora sto guidando giusto no? Sì Mi dite la direzione? E quella l'isola? Ma c'è un zigurat Ma cosa c'è lì? Non vedete un zigurat lì in fondo? Sì 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 La pista del tecno In basso a destra Vedi In basso a destra Ok Andiamo lì Hai ragione Andiamo lì Così poi facciamo tutto il tour Ma cos'ha questo zigurat? Ragazzi ci schiantiamo Io ve lo dico Anche perché dalla mappa non si vede Tutta coperta dalle nuvole Quindi non sappiamo neanche Esatto Lì in fondo c'è una cascata Qui ci sembra un tipo delle basse Aiuto Mi ha fatto spaventare Cos'hai visto? A sinistra Ma c'è un omino gigante Sì c'è un uomo gigante Oddio ragazzi Ma che cos'è? Nel fiume Lo vedete? Io ancora non lo vedo L'ho visto ora L'ho visto ora per un attimo Poi è scomparso Adesso di nuovo riapparsi Allora per adesso È tipo una statua gigante Andiamo ad atterrare Prima di tutto Ragazzi potrebbero esserci Indigeni qua Potrebbero esserci tante cose strane Per ora non sentitevi al sicuro Perché finché siamo in volo Il rischio morto è elevato A vero che non ci prendano con una cannonata Anche anche Ma il problema sto io guidando No no Il problema è Sei capace ad atterrare Esatto Eh beh certo Quella è la parte più critica Tranquilli Non vedo qual è il problema Ma secondo me ci lanciano No ragazzi Perché c'è un razzo? Ma l'avete visto? Facciamolo partire vi prego Perché c'è il razzo? Ma si può andare tipo sulla luna? Non lo so Ma sei bloccato Allora sto scendendo sì Ok Ok però adesso devo andare un altro po' in avanti Ok Eh ragazzi Secondo me Non ci schiantiamo Ho andato bene dai Un attimo Allora così Non c'è scritto coming soon No No dai no Ma pure questo Ma muovetevi a fare gli aggiornamenti No volevo provarlo il razzo Allora usciamo fuori Benvenuti nell'isola misteriosa Siete pronti? Pronti all'esplorazione Allora cerchiamo i jeepini negli hangar Secondo me ci sono Ma ragazzi questa isola non sembra il nuovo aggiornamento di GTA È vero Venite ragazzi Sai quando vai nell'isola per le misure? Vediamo che sia più bello Fere Oh L'ho detto Mi dissocio Allora andiamo Ok Ragazzi 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 c'è una cosa dietro il jeepino Ragazzi c'è una bomba C'è una bomba Perché c'è una bomba qui dietro? Ma che Aspetta un po' se so dire sopra Aspetta Kendall decide di fare cose molto utili No Prendi una jeepa Ragazzi Aiuto Andiamo Arrivo Aspetta Aspetta Ho perso il controllo Allora credo che No Non investirli No ma Sono morto Pilotare gli aerei E non sanno guidare una macchina Ma abbiamo investito di proposito Prendete il secondo jeepino Però mentre voi prendete il jeepino Io controllo un attimino Fere il secondo è pericolosa No tienila però Che magari la possiamo accendere Dici che magari serve tipo nello zigurat No 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 Sto esplodendo Uscite Ma cosa? E' stato un'esplosione un po' triste Anche l'auto sta ancora Con la bomba E' dietro E' dietro il veicolo Ma non guidare la macchina con la bomba tu Scusa No perché magari ci serve proprio nello zigurat Ce la portiamo con noi Non sembra un po' anche Jurassic Park? Sì No guarda Spero non ci siano dei rilosauri Ci sono i kart Allora qua si può fare una gara Ma lasciamo perdere Scusa Marci Marci che fai? Voglio prendermi un kart Guarda che non sono facili da controllare No secondo me è meglio la jeep E' più stabile Sì sì E poi sembriamo più in gita noi Quindi secondo me è meglio Sembriamo più turisti Ma voi non sapete una cosa Che sei un super pilota Io sto giocando con il joystick raga Wow E quindi? E' un professional Io sono bravissimo Vedete che ci sono le bombe Avevo ragione Non le fare No 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 Per ora non tocchiamole Probabilmente bisogna fare esplodere lo zigurat Venite 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 Quanto è lento a salire le scale Spingetele spingetele bombe raga Spostatevi raga Spostatevi Andiamo a prendere anche le va Allora io ce l'ho Io ce l'ho Io sto controllando Come non è accesa la bomba? La devi mollare La devi mollare e basta Occhio che esplode Occhio Ah l'hai già accesa Ragazzi Aiuto Dov'è Kendall? Sono stato catapultato È però giusto così Guardate Sì sì Occhio Si 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 è aperto Allora tienila per ora Non buttare la terra No ma c'è l'ascensore Allora venite tutti dentro Aspettiamo Kendall Aspettiamo Kendall Ragazzi io non so cosa c'è in questo posto Vieni 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 Ragazzi non so dove stiamo finendo Allora premo Secondo me è una trappola raga Anche secondo me Ok Aiuto Aiuto Ho paura Ma dove siamo fatti Guardate le pareti Ci sono disegni strani ragazzi Io non ho idea di cosa stiamo mettendo oggi Ma li vedete i disegni? Sì sì C'erano tipo degli UFO eh Guarda che non è positiva sta roba Sì perché in questo gioco ci sono gli UFO Eh infatti C'erano gli alieni che stavano rappendo qualcuno Non stiamo scendendo un po' troppo in basso Stavo dicendo la stessa cosa Non c'è un piano di intermedio Ragazzi Ragazzi le trappole Ragazzi una death Ciao è stato un piacere Arrivederci Arrivederci a tutti Occhio A me fa morire Marci Ragazzi mi ha sfidato Con la bomba in mano Con la bomba in mano La serve 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 eh Lo sapevo Guarda No si apre Si apre Ok Kendall ci sei? Mi hanno tagliato in due Ma come hai fatto? Qua stiamo scoprendo cose Ragazzi perché c'è uno specchio qua? Ah devi girare gli specchi per aprire le cose No vabbè Ci sono gli gli stili Tomb Raider No questo è stile Zelda ragazzi Se l'avete giocato No 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 Kendall Ok ok Meno male meno male Vieni 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 Allora Come facciamo? Dobbiamo partire da questo Ok Che deve riflettere In questo Si Ok Io lascio a fare La bomba in mano No questo non va bene Aspetta 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 Non va bene guarda A few moments later Ok Allora proviamo No non ci arriva guarda Non ci arriva? Vedi che siamo troppo distanti Allora Two thousand years later Oh raga ma quanto è difficile No perché non lo prendi direttamente Vedete Deve girare anche un pieno Ma è tutto questo per aprire questa? Penso di si 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 Ora si sblocca il laser qui guarda Così ne abbiamo un'altra fonte di luce Eccola Non ci sta più capendo nulla Guarda 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 Un po' per sinistra Sinistra ancora un pelo Un pelo Aspetta Ma siete sicuri di questa cosa? No ragazzi no No sicuramente deve andare a quell'altro lì alla destra Guarda 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 che si illumina Ah Si è aperto questa Si è aperto questa Ok Allora abbiamo aperto qui di questa zona Però ce ne sono tante da aprire Allora buongiorno Vi prendo una torcia Cos'è? C'è un pacchetto regalo Ci sono i vestiti d'esploratore Mi ha dato i vestiti d'esploratore Anche a me è bellissimo Vabbè io non li voglio Raga quando un pirata No ma posso anche metterlo Aspettate devo fare Indiana Jones per questo momento Esatto Allora Vai raga cambiatevi i vestiti Diventiamo tutti Indiana Jones Eh io devo lasciare la bomba però Steph Ah no 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 tu rimani così Guardatemi Indiana Jones Ma io volevo i soldi ragazzi Cioè un po' triste Se noi arriviamo a quello centrale Questo dove sono io mi vedete? Si Questo permette di sbloccare la stanza centrale Questo invece permette di sbloccare la stanza alla destra Esatto Quindi dobbiamo riuscire a far arrivare il raggio ovunque Ok Ti ha aperto? Giralo Giralo Ok Un po' di meno Ok andiamo 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 a centrale Centrale Ah che di nastro Scusate dovevo aprire quindi prima quella al lato Perché quasi prosegue Ci pensiamo dopo fare Noi vogliamo fare spostare le cose Quella centrale è più importante Ok andiamo Si non se la porta No Ma che posto è? Ma? Ma? Ok No se ne sta Mamma mia Che è successo? Eh ragazzi No ragazzi Pressure plate No io Oh mio Dio Ragazzi a fogo A fogo Pera è morta C'è un percorso Ci ho provato Ok No No Allora si rinasce qui fuori per fortuna Però bisogna beccare il percorso Ok Ragazzi Aiuto Ah Sto annegrando Qualcuno mi dia una mano No fuori Non c'è niente da fare purtroppo Sto pensando se c'è scritto qualcosa da qualche parte Forse ho capito Ah qua guardate fuori Qui fuori c'è tipo un percorso Non è quello Il serpentino lì strano Potrebbe ma non lo so No ragione forse Ragazzi come si dovrebbe fare Come si fa? Vuoi vedere che c'è scritto Tipone Leggero glifici che c'erano nell'ascensore No dai Oppure della porta che non abbiamo aperto raga Era la seconda come diceva Fer Che prima quella a destra Aspettate lì davanti cosa c'è invece? Secondo me Per proseguire ci manca qualcosa One eternity later Ma scusate Eeeh fermi fermi Aspetta ma stai da questo Mi raffrarti Gira questo e va direttamente lì Eccolo Ecco 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 Si si è aperto Aspetta aspetta Eh raga adesso devo stabilizzarlo Ci siamo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Era molto più semplice di questo Ho stabilizzato? Sì Posso fare Posso fare l'infame Incredibile Dimmi Signori ci fermiamo così No Con la mappa in questo modo E lo finiamo nel prossimo episodio Quindi vi consiglio di guardarlo Perché non sappiamo che la troveremo Premi Tesori Cosa è azteca o cosa è aliena I don't know Secondo me troviamo la navicella aliena da guidare Io ve lo dico Anche secondo me E nel caso è veramente una hit Comunque io sta roba a priori non la sto capendo Quindi moriremo Faremo una foto tranquillo Ma ce la faremo Noi ci troviamo così Ma io sto qui con la bomba Sotto a coprire altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao